Il settembre calcistico di Premariacco. Indimenticabile. L'Azzurra si è fatta trovare prontissima al suo primo storico appuntamento in eccellenza. 10 punti e classifica che brilla. Mister Bortolussi ha proposto una squadra compatta, convinta e che gioca fino all'ultimo secondo. Caratteristiche dell'allenatore e non solo. Insomma, questa squadra, per dirla in friulano, è proprio un Wess. E per tradurre il concetto non solo in uno scontato gioco di parole, basta nominare Andrea Osso. Uno che gioca con qualità, ma anche quantità. E in area, il più piccolo di tutti, ha sempre la meglio. Come fosse un bomber consumato. Suo il gol vittoria all'esordio con Rive Flaibano. C'è lui anche nella palla sfiorata a Sistiana. E infine, ancora lui, a tempo scaduto, col fiume Veneto-Bannia, a chiusura di un settembre da trascinatore. E siamo qui col protagonista della sfida, Andrea Osso. Gol decisivo nel finale. Come ci sentiamo? Beh, guarda, è sempre una bella emozione, indipendente dal finale o quando riesci a far gol è sempre un'emozione. È stato un finale, far gol al novantesimo, ancora più... Sì, il novantacinquesimo, figuriamoci. Di gol vittoria poi, ancora più bello, una bella emozione, sì.